Alcune persone non riescono ad avere successo nella vita e ad essere felici perché non sanno dove andare esattamente. Se questo è anche il tuo problema, allora permettimi di parlarti di come creare una visione chiara del futuro, che è il punto di partenza essenziale per andare verso il futuro. Infatti, se non sai che cosa ti aspetta, se non desideri quello che ti può aspettare nel futuro, non sai dove andare, non puoi determinare un piano e non puoi creare il tuo livello di felicità. Per cominciare partiamo da questa considerazione. Immagina. Immagina di più e meglio di quando giocavi nell'infanzia. Immagina da adulto con una lungimiranza molto più estesa, una sana ambizione altruista e, ovviamente, con delle solide radici etiche. È fondamentale che tu eserciti l'immaginazione, la creatività, che è una caratteristica propria di noi esseri umani. Da adulto, immagina con un'intensità molto più estesa rispetto a quella che era l'immaginazione tua durante l'infanzia, che forse era un'immaginazione che serviva per evadere dalla realtà, per divertirti. Ora, da adulto, hai delle solide, o almeno dovresti avere delle solide radici etiche, cioè dovresti creare per il tuo senso altruista innato in modo da realizzare una società migliore, una società dove tu puoi prosperare, dove le persone di valore possono prosperare, dove c'è onestà, dove c'è rispetto, dove ci sono prospettive per il futuro. Le arti che ispirano vengono celebrate, le risorse vengono amministrate bene e si scopre quante altre possibilità ci sono in questo universo. Per riuscire a vedere tutto questo, devi immaginare, devi fare un salto di qualità nel tuo pensiero, vai al di là di quello che ti racconta la propaganda, immagina, con una lungimiranza sana ed etica. Forte di questa tua consapevolezza accetta l'evidenza che la tua visione etica è superiore alla mediocrità del giacere nei compromessi e che hanno più diritto di affermarsi amore, verità e bellezza piuttosto che inganni, brutture, scoraggiamenti, arroganza e perversioni varie. Non si tratta di vedere dove c'è il più grosso gruppo, non si tratta di vedere cosa va di moda o che cosa fanno tutti. Se in questo momento prevalgono apparentemente i trionfi, tra virgolette naturalmente, di chi moltiplica gli inganni del mondo, non significa che ciò sia vero, non significa che ciò abbia diritto di esistere. Ha diritto di esistere l'amore, la verità, la bellezza, che sono la base, i pilastri delle leggi naturali dell'esistenza. Quando tu pensi a un mondo migliore dove le persone sane possono creare e vivere e prosperare, possono dare ai figli delle prospettive di vita, accetta l'evidenza che questa visione è superiore alla mediocrità del giacere nei compromessi. Quindi non unirti alla fila di coloro che piangono, litigano e raccontano un sacco di sciocchezze, semplicemente perché non hanno una visione chiara, sono impauriti o peggio ancora sono pigri, non fanno nessuno sforzo per creare un mondo migliore e anzi prosperano per vendere dei finti rimedi oppure per fare dei profitti, spacciando droga, spacciando bombe, spacciando informazioni che entrano nelle case, creano paura, scoraggiamento, panico, deprimono le persone. Lascia perdere, anche se numericamente ti sembrano tanti quei due, tre, dieci politici che dirigono il mondo, lascia loro inganni, brutture, scoraggiamenti, arroganze e perversioni varie. Tu hai una visione etica, questo ti colloca al di sopra della mediocrità, questo ti permette di creare una visione chiara del futuro e da qui dipendono il tuo successo e il successo dell'umanità. Di conseguenza, forte del valore della tua visione, con la determinazione di portare alla luce un contributo di onestà e di civiltà, definisci per iscritto i dettagli di quanto sogni e ripassali, perfezionali ogni giorno. Questo è molto importante, devi essere consapevole, devi essere determinato a fornire al mondo un contributo di onestà e di civiltà. Tu sai che vuoi un mondo sano, non inquinato, vuoi che ci sia rispetto, vuoi che ci sia legalità, vuoi che le persone per bene abbiano il diritto di vivere, di prosperare senza la paura che qualche legge strana, qualche guerra improvvisa, qualche criminale, grande o piccolo che sia, arrivi a creare devastazione tra le persone per bene. Tu vuoi questo, lo vuoi con molta chiarezza e allora difendi la tua determinazione, definisci per iscritto i dettagli di quanto sogni e ripassali ogni giorno, al mattino. Incomincia leggendo la tua visione, perfezionala, scrivi qualche dettaglio in più, e così forte della consapevolezza che quello che stai facendo è giusto perché è etico e quindi aiuta le persone, gli esseri, il pianeta a prosperare, tu puoi creare una visione chiara del futuro. Questo ti dà forza, ti dà motivazione e ti permette di realizzare la tua ambiziosa meta, che è quella di creare una civiltà onesta, una civiltà dove le persone di valore possono essere se stesse, possono creare dei contatti con altri esseri di luce, ottimisti, artisti, creativi, e tutto ciò è la migliore prospettiva che possiamo augurarci e che possiamo creare oggi stesso. Perciò parti da te, parti dalla tua visione chiara del futuro, coltiva con determinazione i tuoi valori, metti per iscritto i dettagli di quanto sogni e ripassa questi dettagli, perfezionali ogni giorno.